Yannick Sinner esordisce oggi alle ATP Finals di Torino contro Alex de Minaur. Il match è fissato per domenica 10 novembre con inizio previsto non prima delle 20 e 30 sul cemento dell'inalpi arena. Potrete seguirlo in diretta tv in chiaro su Rai2 e su Sky, con possibilità di streaming su Raiplay, Sky Go e Now. Ma attenzione, non è sicuro che Yannick giochi proprio alle 20 e 30 e ora vi spieghiamo il perché. Il numero uno al mondo, Sinner, ha già affrontato de Minaur sette volte in carriera, con altrettante vittorie. Entrambi fanno parte del gruppo Nastase, insieme a Medvedev e Fritz. I vincitori dei match odierni si affronteranno martedì, così come i due sconfitti. Solo i primi due in classifica passeranno il turno. L'orario di inizio di Sinner è fissato per le 20 e 30, ma potrebbe subire ritardi se le partite precedenti, come il doppio tra Granollers, Zebalos e Heliovara, Patten, previsto alle 18, dovessero protrarsi. Come detto in precedenza, la sfida tra Sinner e Deminaur sarà visibile in chiaro su Rai2 senza bisogno di abbonamento e su Sky nei canali Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis. In streaming sarà disponibile gratuitamente su Raiplay e per gli abbonati Sky su Sky Go e Now. Grazie per la visione, iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato!